Ciao raggi di sole, questo è un videotag, diciamo così, suggerito dalla cameraman Valeria, che appunto sta dietro le quinte. Ma perché devo mettermi l'ord? No! Ha deciso di farti vedere stavolta, saluta il grande pubblico di Youtube. Mi farà delle domande a random prese su Tumblr e quindi io non so cosa mi chiederà. Saranno un po' domande peperine. Ok. No, cioè no, quelle non te le fai. Vabbè dai dai, come vuole lei, vada. Vado? Sì sì. Allora, sei mai tornata a casa dopo l'alba? No, mai. Hai mai urlato a squarciagola in mezzo alla strada? Ma basta che fanno, chissà. Sì, sì, per me di sì. Hai mai partecipato a una gara di corsa? No, no, corsa no. Penso di no. Hai mai lasciato il tuo ragazzo per un altro? No, no, no. Sei mai stata lasciata dal tuo ragazzo per un'altra ragazza? No. Hai mai guidato la macchina pur non avendo la patente? Eh, tutti i giorni, sì. Non dita mia madre, però... No, comunque no. Hai qualche animale domestico? Avevo due pesci ma sono morti. Come ti senti in questo periodo? Ah, abbastanza felice. Poi ho finito la scuola, quindi diciamo che non ho più tanta ansia. Fai molte figure di merda? Eh beh, sì. Diciamo che ultimamente di meno, oppure magari le faccio ma non me le accorgo. Una volta le facevo di più me le accorgevo e quindi tante figure. Ti spaventano i ragni? Non è che mi spaventano, è che mi fanno un po' più schifo. Cioè, è una cosa diversa. Scrivi velocemente sulla tastiera. Sì, quando scrivo velocemente vengono poi degli scorti che non hanno alquanto senso. Sei mai salito su un cavallo? No, e non ci salirò mai perché sono fine a male. Difetto peggiore? Testarda. Pregio migliore? Sensibile. Hai mai spezzato ancora qualcuno? No, che io so che no. Hai mai fatto piangere una ragazza? No, forse loro hanno fatto piangere me, ma io no. Cosa odi? L'ipocrisia. Cosa ti dà fastidio ora? Che c'è un tempo orrendo in questo momento. Io so che dovrebbe essere stare, dovrebbe essere il cintore che ha fatto i sassi. Ti sei mai cambiato di vestiti in un veicolo? Sì, macchina. Perché due settimane fa... E' una vera danza. Ti fidi molto delle persone? Sì, però le devo conoscere bene per fidare. Ti sei mai tinta ai capelli? Tinta ai capelli? Sì, sì, sì. Qual è il tuo colore naturale? Il mio colore naturale è il colore delle sopracciglia. Questo qua è un marrone, cioè un castano scuro. Che colore amo indossare? O il nero, o il grigio, o il colore di... Black, da quello. Esatto. Qual è il profumo che usi? Provate a indovinare, qual è il mio profumo preferito? Da 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 da! Imparare. A warm up. No, in serio? Non sapevo... Dai, sei preso. Hai qualche tic? Non so se è un tic, però ci sono. Mi parte l'occhio. Non lo so, non è lì. Ti fa una capa così, eh. Hai qualche soprannome? Ma sbagliati, tanto che Lucrezia è più lungo di Supercalifragilistiche Spiralidoso, quindi... O non lo devi dire in un video. Lulucre. C'è qualcuno che fuma in casa tua? In casa tua? Cioè, in casa tua, non via. Prima della mia nascita. Preferisci il giorno o la notte? Alla notte diciamo che rompo. Sì, ero. Ti dico notte, che va più affascinante. No. Mare o montagna? Perché al mare non ci vado praticamente mai. Ok, caldo o freddo? Allora, quando è state, muoio da caldo, che sono sempre lì col ventaglio. E nel ventilatore. Oh, sì. Di inferno c'è un prudocane. Quindi un po' freddo, dai. Credi nelle streghe? No. Nell'UFO? No. La squadra del cuore? Juventus. No. Scusate, cioè... Juve! Storia di un grande! Amo! Bianca! Discrivetevi, come si dice. Stai registrando. Fino alla fine! So che questo video lo verrà... Lo verrà... Lo vedranno, tipo, tutte le persone che conosco. Quindi... No. Cioè, non fa... Seguitemi su Instagram. Eh, sì. Fatte, raggi di sole. Bene, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace. O se volete non fatelo uguale. Facoltativo. Un bacione, ciao, raggi di sole. Ciao, raggi di sole.